La Braccialini è oggi una delle principali realtà industriali della pelletteria italiana, con oltre 180 dipendenti, dei quali 60 dedicati allo stile e alla progettazione delle collezioni. Un indotto di altre 200 persone che lavorano nel territorio fiorentino. Una distribuzione in 40 paesi e circa 40 negozi monomarca in Italia, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Emirati Arabi, Kuwait, Russia. Una delle sfide future che abbiamo, indispensabile, è trasmettere questo nostro modo di essere, questo nostro modo di lavorare, questo nostro modo di fare il prodotto anche a quelle che banalmente chiamavano le periferie, cioè tutti i nostri negozi, tutti i nostri negozi, tutti i nostri franchising devono capire e trasmettere questa nostra energia, questo nostro modo di pensare che viene poi radicalmente da mia madre, dalla passione ammessa in quello che ha fatto, cioè che poi ha trasmesso ai figli e noi cerchiamo di trasmettere. La mia è stata una bella avventura, è durata più di 50 anni, mi sono autopromossa presidente onorario. Ti consegno aiuto, presiedo tutto, guardo tutto, ma generalmente non entro nelle loro scelte, li lascio liberi di fare perché per me il futuro è già adesso. Grazie.